Eleonora Pedron, Rivelazioni le morti di papà e di mia sorella e i rapporti con viaggi Fatto per te trattasi del libro scritto da Eleonora Pedron Una fatica letteraria edita da Giunti è disponibile nelle librerie dal 13 ottobre Quando all'Ex Miss Italia si domanda quale sia stata la motivazione che l'ha spronata a raccontare le pieghe più recondite della sua vita Lei spiega che prima o poi ogni persona sente la necessità di rimettere in ordine i conti con il passato Qui la scelta di condensare le sue esperienze in un volume La showgirl di Borgorico Padova ha parlato ampiamente del contenuto di L'ho fatto per te con il Corriere della Sera La storia di Eleonora è stata segnata da alcuni gravi lutti nel 1991 anni Quando aveva solo 9 anni, ha dovuto dire addio alla sorella maggiore, Nives, scomparsa a 14 anni in un tragico incidente d'auto In guida c'era la madre La Pedron ha poi dovuto fare i conti con la morte di papà Adriano Altro drammatico incidente lei aveva 20 anni e sedeva accanto a lui che era al volante Stavano tornando a casa, nel Padovano, da Cologno Monzese Dov'erano stati per un provino per i casting relativi alla scelta delle veline di striscia la notizia Eleonora si ruppe il bacino e la spalla sinistra, oltre a riportare un trauma cranico che ancora oggi le dà problemi di memoria Adriano entrò in coma e non si svegliò più, spegnendosi nel maggio del 2002 Quattro mesi la Pedron trionfava a Miss Italia, con il dolore nel cuore Non posso provare senso di colpa, doveva andare così Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me Così al Corriere si pronuncia Eleonora, in merito alla tragica morte del papà E ancora rabbia? Forse un po' Non quanto mia madre Ho accettato, trattenendo le cose dentro L'ho fatto da quando ero piccola non avevo chiesto io di crescere così in fretta Forse aggiunge provo rabbia a non poter pranzare tutti insieme la domenica Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali Con la rabbia non si vive Quando sono nati Inese e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita Loro mi hanno dato ancora più forza Eleonora spiega poi che la fede l'ha aiutata tantissimo a dare un senso a quello che apparentemente non lo ha Tutti sono all'origine anche di alcune importanti scelte di vita che ha preso da adulta Ad esempio quella di accasarsi a Monte Carlo Tutto è cominciato con la vittoria a Miss Italia Quell'anno è stato ricco di impegni per la Pedron Lei parla di fuga dettata dalla situazione lavorativa Proprio ciò di cui aveva bisogno perché non riuscivo più a stare a Borgorico dopo quello che era successo Nella sua vita a un certo punto arriva il motociclista Max Biaggi Quando ho conosciuto Max lui viveva già a Monaco e per me in quel momento qualsiasi posto andava bene Purché non fosse il mio paese Poi quando ci siamo lasciati ho preferito dare a Inese e Leon un po' di stabilità almeno in quello Senza fargli cambiare scuola o amici loro sono nati a Monte Carlo Con il padre ho un buon rapporto ed è importante, ma non posso dire che i bambini non abbiano sofferto Ricordo tutto quello che è successo in casa dopo la morte di Nives, e avevo nove anni Guardando al passato rimpiange di non aver dedicato più tempo a se stessa Ho voluto avere due figli vicinissimi, racconta, a poco più di un anno l'uno dall'altra, senza nessuno che mi aiutasse per scelta Ho lasciato il lavoro per occuparmi di loro, Max era sempre via Forse non ero matura abbastanza È stato troppo per me Oggi l'ex Miss Italia è felice al fianco di Fabio Troiano Le nozze non sono un tabù anche se Eleonora frena sul tema A, saperlo non lo so Mi sembra sempre che mi manchi qualcosa A volte mi dico che sono io sbagliata, sempre alla ricerca di qualcosa in più rispetto a quello che ho Qualcosa che in fondo è già dentro di me 2. Storie italiane Attacco social a Carolina Marconi L'ira di Eleonora Daniele L'ira di Eleonora Daniele si abbatte sugli haters che hanno attaccato Carolina Marconi Sgfina che in questo periodo è impegnata in una difficile lotta contro un tumore al seno 43enne venezuelana, durante la mattinata di martedì 12 ottobre Da ospite nel talk di Rai un ottimo nato dalla conduttrice padovana, storie italiane L'occasione per raccontare nel dettaglio e in tv il dramma vissuto per via della malattia che l'ha aggredita Un dramma che ha si un po' piegato Carolina, ma che non l'ha spezzata La Marconi infatti non ha perso la voglia di sorridere e di combattere E non ha nemmeno perso la speranza di uscire da tale prova presentatale dalla vita più forte di prima A testimoniarlo anche i suoi posti Instagram Verso i quali tiene aggiornati i fan sul suo percorso clinico e sensibilizza sull'argomento relativo alla battaglia con il cancro Sono orgogliosa di essere donna Tutte le donne che mi hanno scritto mi hanno tranquillizzata e non mi hanno fatta sentire sola Il suo Instagram è come un diario, ha raccontato Carolina in merito al suo rapporto con i social e con i followers In tantissimi stanno seguendo la sua storia e le stanno dando sostegno virtuale E spesso capita, però, in rete c'è un po' di tutto e infatti non è nemmeno mancato chi ha criticato la Marconi Scusandola di spettacolarizzare il tumore I asimi sconclusionati e fuori luogo sui quali Eleonora Daniele ha ringhiato, condannandoli con ferocia Ci sono un sacco di cretini, perché siete dei cretini Come vi permettete di toccare la forza e il coraggio di una donna che decide con grande umiltà di condividere la sua vita e un momento così fragile? Siete dei cretini Storie italiane, come sta Carolina Marconi? La Carolina guarda avanti, consapevole che non sarà un manipolo di persone acide e frustrate a guastarle l'umore Questo non smette di combattere quotidianamente contro la malattia, sorridendo e senza lasciarsi vincere dallo sconforto Io sto bene, la sto vivendo serenamente e con forza A volte non so nemmeno dove l'ho trovata, ha sottolineato a storie italiane La venezuelana ha poi narrato che le mancano sei cicli di chemio bianca Dico sempre che il 10 novembre finisco tutto e farò una grande festa La Marconi ha quindi spiegato di essere già proiettata oltre il superamento della malattia Aggiungendo che il prossimo obiettivo è quello di diventare madre La speranza è coltivata con tenacia L'ex-giefina non nutre alcun dubbio in un modo o nell'altro abbraccerà prima o poi un figlio Nonostante la malattia, non rinuncio alla speranza di diventare madre e lo sarò in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta adotterò un bambino e sarà forse ancora meglio Ha confessato ad Eleonora Daniele che ha rimarcato una volta di più come la Marconi sia un esempio di forza e caparbietà Grazie a tutti Grazie a tutti